La bomba è deflagrata a Ruvo di Puglia sotto l'automobile di un vigebrigatiere dell'Arma dei Carabinieri in servizio da Andrea. Solo il più recente dei segnali che danno conto del pesante attacco della criminalità organizzata al tessuto sociale ed economico pugliese. Quella delle mafie pugliesi è ormai una conclamata emergenza nazionale. Per tale motivo è stato istituito il Comitato 15 in seno alla Commissione parlamentare antimafia che si occuperà di mafie pugliesi e della capacità aggressiva delle compagini criminali che minacciano il Foggiano, la provincia Bat, Bari, Salento e la Puglia tutta. Lo ha ribadito il senatore Marco Pellegrini, il coordinatore del Comitato Mafia e Pugliesi della Commissione parlamentare antimafia annunciando proprio la riunione di oggi della sua delegazione in prefettura a Barletta. Francesco Rossi E' stato un buon momento di confronto anche se ci siamo ripromessi di rivederci, di fare, di entrare più nel dettaglio per affrontare questioni un po' più specifiche. La situazione di Andrea in particolare? Situazione di Andrea in particolare legata alla triste vicenda che è coinvolta un sotto ufficiale dell'arma dei Carabinieri. La risposta dello Stato? La risposta dello Stato è efficace, noi siamo qui per dimostrare l'attenzione nei confronti di questi gesti, non possiamo fare le investigazioni però la nostra presenza qui è sintomatica di un'attenzione anche romana su quello che succede sul territorio. Il nostro impegno andando via dalla Bat oggi è quello di accelerare le pratiche per la realizzazione definitiva della questura che sarebbe un altro presidio importante, un segno di attenzione a questo territorio. La nostra intenzione è quella di monitorare il territorio e offrire un contributo il più possibile concreto a quanto in atto. Un primo incontro? Sì, un primo incontro, siamo venuti qui immediatamente subito dopo questo attentato e la nostra presenza qui è anche per preparare una missione della Commissione Antimafia. Verremo nelle prossime settimane sicuramente.